Trentino, Val di Sole, Caldes nella frazione di Tozzaga, a 100 metri dalla fermata del trenino della Trento Malema Rilleva, in posizione molto soleggiata e tranquilla, viene posto in vendita dal costruttore un appartamento molto luminoso, con tre stanze, cinque balconi, ampio soggiorno e bagno. Viene proposto completo di box auto e l'acquirente può ancora scegliere le finiture, pavimenti e rivestimenti. Modalità costruttive, materiali utilizzati e cappotto termico collocano questa unità in classe energetica B, i consumi per riscaldamento sono davvero contenuti. Al prezzo, che è trattabile, andranno aggiunte le tasse, la commissione di agenzia e il costo dell'atto notarile, mentre si potrà dedurre l'eventuale sconto ottenibile in sede di trattati.